È stata appena approvata la nostra proposta di legge che consentirà alla protezione civile in servizio alla regione Abruzzo di rintracciare gli incendi all'interno di questa regione e di spegnere in maniera veloce e puntuale senza mettere a rischio il repentaglio e la vita di chi lavora all'interno di un canadero o di un elicottero. Un nuovo strumento innovativo è stato già sperimentato in due regioni, pensiamo alla Liguria e al Friuli Venezia Giulia. Consentirà alla protezione civile di intervenire in tempi molto più brevi, avvicinandosi molto di più al luogo dell'incendio. Ovviamente un intervento deve essere tempestivo prima che l'incendio divampi e raggiunga dimensioni difficili da contenere. Ricordiamo che la regione Abruzzo non ha un canadero, non ha un elicottero, deve noleggiarli e quindi aspettare che arrivino dal Lazio. Tutto questo ha un utilizzo veloce che immaginiamo la giunta regionale dia copertura immediata già in questo primo bilancio perché la copertura è stata demandata alla giunta regionale, così deve essere. Siamo certi che questo avverrà. Pensiamo a quello che è accaduto in altre regioni e in altre nazioni. Un esempio su tutti, Notre Dame non si è potuto fare altro che rimanere a guardare l'incendio, distruggere completamente la struttura. Questo perché? Perché un intervento con un canadero, con un elicottero, avrebbe distrutto le opere d'arte all'interno della struttura e della chiesa. Immaginiamo a che patrimonio architettonico e culturale ha la regione Abruzzo e quante volte potremo non intervenire. I droni ci daranno una mano anche in questo. Siamo sicuri che finalmente la regione Abruzzo sarà dotata e doterà la protezione civile di un strumento innovativo che, ripeto, in altre regioni ha avuto già successo. Potremmo essere una delle prime regioni ad avere in dotazione questo strumento. Speriamo di farlo in tempi molto più brevi. La proposta di legge è stata approvata in tempi non così brevi. È una proposta che è stata presentata addirittura nella precedente legislatura. Speriamo non servono tempi altrettanto lunghi, così come per l'approvazione. Io mi auguro che nel 2022 questo sia uno strumento già in dotazione di chi ci aiuta a spegnere gli incendi. Immaginiamo quello che è successo nel 2021 e negli anni precedenti quando contemporaneamente incendi dorosi hanno devastato la pineta d'Annunziana, i vigneti di Ortona, la costa di Vasto e del Vastese. Si è potuto intervenire una sola volta su un solo luogo. Avessimo avuto in dotazione questo, avremmo potuto fare un intervento su più luoghi contemporaneamente. Grazie.